Questo sciopero della fame che sto portando avanti è un gesto di umiltà, è un gesto d'amore, è un modo per poter dire ascoltatemi, non datemi ascolto. L'idea è quella di entrare nel dibattito politico a livello di informazione massmediatica dicendo ma per quanto riguarda la legge elettorale, per quanto riguarda la riforma della legge elettorale, è possibile parlare in maniera appropriata del ritorno al mattarello? Ci ricordiamo che nel 1993 un referendum ha reso possibile l'abrogazione della proporzionale e che i cittadini italiani si sono espressi per abolire la proporzionale e vogliamo tornare a quel punto, vogliamo tornare indietro? Io dico parliamolo, non so quello che si farà, quello che decideranno di votare, però questo è un discorso che riguarda la democrazia, che riguarda la libertà, che riguarda la selezione delle classi dirigenti, che riguarda il futuro del nostro paese, quindi è uno sciopo della fame per poter finalmente aprire una discussione, l'unica cosa che chiedo è partecipare a questa discussione.